musica non voglio tradire gli imagine dragons, scelgo loro io vado con the weekend no, scelgo loro lo sapevo ma sei un fallito lo sapevo ma se non c'è nulla no, è stata troppo trend quella canzone bellissima ma sapevo che era 200 milioni ma non sapevo la sua ha fatto 8 milioni ma cos'è ma sei c'abbiamo 9 milioni e 8 con su porta creator musica sta piovendo adesso eh sono abituare i consolini a sniffare gli squishy poverino quella è una cosa brutta prima delle interrogazioni a settembre si stava accorto sta parlando con il creatore ha visto un fulmine eccolo ma c'è nel senso cosa sta succedendo io ho scritto e ciò torna stai zitto stai zitto sono morta nello stesso punto dell'altra volta devi sta zitto mi sa che l'abbiamo fatto eh no no questo è devastante invece questa me ne immaginavo tipo 10-11 invece è arrivata quasi 17 oreo in america devo vedere Steph dov'è non ci credo mai c'è sempre la cosa giusta quella banana mezz'ora c'ho guarda allora tacchete one two three four uno due doppio edge shot siuuu allora proviamo l'altro tasto da me neanche questo qual'è il tasto questo è il tasto per fare questo non no non lo trovo teoricamente dovrei avercelo tre due uno va in conflitto marci ti spacco la vita ti spacco un altro lo supera lo supera l'ha colpito ancora l'ha superato anche marco e sarà la prima arma ufficiale che facciamo a qualcun'altro all'interno della serie che non è per noi che quindi finalmente venderemo mi scusi ho visto la scena cioè se vuole una mazza gigante per combattere gliela facciamo cinque monete d'oro e noi siamo disponibili per fare qualsiasi cosa avete superato tutti questa città di stella dai ero seconda non ci credo non ci credo non ci credo non ci voglio credere non ha detto una parola adesso ne ho detto addirittura da due nooo da me piove non piove più dai basta da me non piove dai basta di nuovo dai 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 come è dai 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 è tornata io ragazzi ci provo eh sarà tolto uno ed eccoci ultimo provo un dropper è anche bello complicato first try aspetta era qui era in diagonale alla fine ok è in diagonale è stranissimo davvero oggi durerà comunque meno secondo me però non meno quanto il meno dopo la fatica ci sono solo cose positive speriamo ma è ricco questo guarda il sorriso che ha allora ma ora si vai sta funzionando ci ho fatto ci ma che cavolo ma perchè adesso devo starnutire ogni video da vita in città ci ma sto morendo di fame ho tre cosciotti bere tieni tieni non mi bastano le angure tieni un po' di angure voglio coltivare Steph eh vai vai coltiva la patata nel comodale 3 4 5 5 6 9 12